Se mi lasci ti cancello è un film del 2004 diretto da Michel Gondry. Joel e Clementine, rispettivamente Jim Carrey e Kate Winslet. Sono questi i due protagonisti di questa storia. Questa storia che li vedrà, li ha visti e li vede incontrare e che li avrà, li avrà avuti e li ha assieme. Una coppia. Una coppia persa nel mare del tempo, per certi versi. Persa in questo, in qualche modo, flusso di coscienza che ci viene mostrato, in qualche misura, e che ci permette di entrare dentro la loro vita. Una vita di amore. Una vita di passione. Una vita di solitudine. Una vita di ricerca, in qualche modo, di qualcun altro. Una vita strana. Una vita strana in un mondo che dà una possibilità superare il dramma dell'allontanamento, dell'essersi separati, appunto, facendoti dimenticare chi vorresti. E questo è l'elemento fondamentale di questo film. Questo film che, volendolo, potremmo ricondurre al genere fantascientifico, ma che, al contrario di tante produzioni che possono vertere, appunto, su quello che è l'elemento straordinario, in realtà, usa lo straordinario al servizio di una storia estremamente intima. Per certi versi, forse, una storia di tutti i giorni. La storia di Joel, appunto, a un certo punto, che, scoperto che la sua ex dolce metà, Clem, ha fatto in modo di dimenticarselo, cercherà lui stesso, a ridosso di San Valentino, il periodo peggiore, come dice uno dei personaggi in questo film, cercherà di dimenticare a sua volta Clem. Quando però sarà lì, nel mezzo del trattamento, quando si cercherà, appunto, di permettere a Joel di andare avanti, Joel capirà che non vuole andare avanti. Joel capirà, magari, errori che ha fatto, lui, errori che ha fatto lei, cercherà, forse, in qualche modo, di aggrapparsi alla possibilità di ancora un futuro insieme, magari riproponendosi a lei, ma, soprattutto, deciderà di tornare indietro, deciderà di non dimenticarla. È un film, questo, che dà la possibilità allo spettatore di vedere, attraverso una regia fantastica, a mio avviso, tutti i tentativi di Joel di aggrapparsi al ricordo e, quando, qualora questo non fosse possibile, di aggrapparsi a dei nuovi ricordi che lui cercherà di creare, a poco a poco, che questo tentativo di fargli dimenticare Clem andrà avanti. Splendido. Io vidi questo film tanti anni fa, praticamente alla sua uscita, non al cinema, ma ho avuto la possibilità, grazie a una rassegna che ho avuto modo di scoprire di recente, appunto, la rassegna di circuito cinema, il cortocircuito, ho avuto la possibilità di vedere questo film per la prima volta sul grande schermo, assieme ad altri, ed è stata un'ottima esperienza. E' stato bello vedere al suo massimo splendore questa storia che in realtà non ha necessità tutta questa estetica così spinta per certi versi. Non ha bisogno per forza di ricorrere a una CGI abbondante, ma nel suo piccolo la sfrutta. La sfrutta quando non viene sfruttato l'effetto fisico, reale in realtà, magari giochi di prospettiva che permettono una distorsione di quello che lo spettatore percepisce. In realtà non soltanto dal punto di vista visivo ma anche concettuale. La CGI quindi effettistica è tutta al servizio di questa storia che permette di immergerci nella psiche di Joel. Un Jim Carrey secondo me come in altri ruoli in stato di grazia che oltre alla sua rinomata capacità attoriale comica riesce a essere un ottimo interprete drammatico. Un interprete drammatico che molto probabilmente trasmette parte della sua personalità comunque sappiamo ormai oggetto di momenti depressivi in qualche modo in quello che è il suo personaggio. un umile sicuramente titubante che tende purtroppo a innamorarsi di tutte le persone di genere femminile che dimostrano un minimo interesse per lui e che si perde si perde in Clementine una Kate Winslet affascinante e lo dico persino io che non amo particolarmente queste interprete e che riesce a fare un personaggio sicuramente altalenante in vari momenti. Abbiamo infatti una Clem che in determinati momenti è l'aspetto forte del duo o comunque è l'elemento forte di questo film. Sarà lei a prendere l'iniziativa attentamente con Joel magari pure più di una volta e sarà lei in qualche modo che permetterà a lui di sbloccarsi e quindi appunto di mettersi con lei. È lei però anche quel personaggio che comunque ha determinate fragilità in certi momenti per certe relazioni soprattutto. fragilità che in realtà si possono trovare praticamente in uno di noi probabilmente e anche in quelli che sono i personaggi secondari di questa storia fra i quali io personalmente ho visto spiccare ad esempio una Kirsten Dunst che all'epoca conoscevo principalmente per il suo contributo nella trilogia di Raimi di Spider-Man e che qui interpreta assieme ad altri personaggi lo staff della Lacuna Inc questa azienda questa situazione diciamo che si occupa di rimuovere i brutti ricordi legati appunto alle persone e quindi le persone dalla vita o meglio dalla memoria di chi lo richiede. È una storia di ciclicità in qualche modo questa una ciclicità che potrebbe anche in alcuni casi continuare ripetitoriamente e che magari in qualche modo per qualcuno è stato tale. Io fra l'altro piccola parentesi ho un ricordo molto personale in realtà di questo film perché quando lo vidi per la seconda volta se non mi ricordo male in un video assieme a mia sorella all'epoca eb una discreta litigata con lei perché all'epoca l'avevo convinta ad un certo punto che il film avesse una sovranicazione lettura ulteriore che poi in realtà dopo tanti anni posso dire molto probabilmente in questo caso non c'è anche se a me personalmente non mi sarebbe dispiaciuta questa cosa colgo l'occasione quindi per chiedere le scuse sorella al di là del mio aneddoto personale cosa rimane al termine di questa visione rimane una sensazione veramente piacevole che a tratti è poco descrivibile con le parole in realtà ma che lo spettatore può percepire può percepire assolutamente è un mix di commedia e di dramma questo film un mix di commedia e di dramma che riesce dal punto di vista visivo anche sonoro ma soprattutto dal punto di vista concettuale grazie alle interpretazioni alla scrittura dei personaggi e in generale a tutta la sua messa in opera a rimanere a rimanere nel cuore dello spettatore ed è per questo secondo me che questo film come pochi altri merita assolutamente la norme di cult che nel corso degli anni è riuscita ad acquisire infinite litizie della mente candida eternal sunshine of the spotless mind se mi lasci di Castello di Michel Gondry se vi capita recuperatevelo grazie a tutti